Prestazioni da record, velocità massima di 400 km orari, interoperabilità su tutta la rete europea, soluzioni tecnologiche di assoluta vanguardia, design innovativo, comfort, qualità, sicurezza e performance uniche per risparmio energetico, impatto ambientale e connettività wifi. Non si fa mancare nulla il nuovo Frecciarossa 1000, presentato oggi a Napoli alla rotonda di IAZ come il più bel treno al mondo, un gioiello tecnologico del Made in Italy. Orientato naturalmente a quelle che sono le cose più importanti in questo momento, Green Economy, Digital Economy, che devono trovare una sintesi, che la devono trovare anche in città come Napoli, penso a Ansaldo Sistemi, Ansaldo Breda, i nostri stessi impianti che abbiamo qui a Napoli, che sono tanti e importanti, e quindi riescano a disegnare un futuro completamente nuovo. Il treno resterà sul lungomare fino a domenica 9 dicembre, nel villaggio Frecciarossa 1000, dove i visitatori potranno simulare il viaggio con filmati e giochi interattivi, fra mostre fotografiche ed incontri con ingegneri ferroviari che risponderanno alle domande del pubblico. Per l'occasione è stata prevista anche l'apertura straordinaria del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ad un costo ridotto, ritirando il biglietto nel villaggio. Il treno è molto bello, i tempi, mi pare di capire, sono anche abbastanza rapidi ed è importante che si vada verso il trasporto su ferro, del resto anche noi qui a Napoli puntiamo sul trasporto pubblico, puntiamo molto sulla metropolitana, abbiamo avuto questo riconoscimento del Telegraph l'altro giorno sulla stazione più bella d'Europa di via Toledo, abbiamo realtà importanti come Ansaldo, quindi siamo contenti, siamo contenti perché significa impresa, innovazione, sviluppo e posti di lavoro che è la risposta migliore alla crisi.